è che mi permette di concentrarmi, riesco a escludere qualsiasi altra cosa, qualsiasi, è come una droga. Il mondo, come adesso, è così inumano. Sono tutti connessi ma tutti ciecamente incapaci di reagire o di esprimersi. O si sono nati dei soldi, della carriera, stupidamente e arrogantemente appagati. Io non riesco a parlarci, li combatto. Vorrei distruggerli addirittura. Io ho bisogno di interagire, lo voglio veramente. Ma mi è diventato impossibile. Tirano fuori un dispositivo per qualunque cosa, per decidere dove andare a guardare un film, dove andare a mangiare, dove andare a fare shopping. Che cosa ci resta in mano? Chi me lo dice? Niente. È come se fosse tutto un gioco. E a me non hanno spiegato le regole. O forse ancora peggio. Me l'hanno spiegate le regole ma non me hanno dato gli strumenti. Sono diventata pessima. Esattamente come loro. Egoista. Forse anche peggio di loro. Mi faccio veramente schifo. Per come sono diventata. Per quello che sono ora. Perché mi sento così sola. Perché il mondo deve essere così basico. Perché deve essere sempre insensibile. Egoista. Perché lo sono pure io. Io non vado bene per questo mondo. Io non vado bene per adesso. Grazie a tutti.